Allora l'uomo s'inchinò, adorò il Signore, e disse, Benedetto sia il Signore, il Dio d'Abramo mio Signore, che non ha cessato di essere buono e fedele verso il mio Signore. Genesi, capitolo 24, versetti 26 e 27 Il Signore è buono e fedele Nel leggere un versetto come quello di oggi, alcuni obietterebbero, ma come si fa a dire che il Signore è buono e fedele? Con tutto il male che dilaga del mondo, la violenza, l'immoralità, la corruzione, Dov'è la sua bontà quando permette che migliaia di bambini muoiano di fame e di malattie? Dov'è la sua fedeltà quando anche le persone migliori soffrono e piangono per mali che non hanno commesso? Sono domande molto comuni, ma non sono sagge né intelligenti, perché cercano di trovare delle colpe in Dio. Questo atteggiamento in realtà è solo un alibi per non sottomettersi a Lui, per non accettare il suo amore nel dono di suo figlio, ma soprattutto per sentirsi giustificati dai propri peccati e non abbandonare il proprio orgoglio. Le difficoltà, i dolori, le catastrofi sono il risultato della presenza del peccato nel mondo. Finalmente, da più parti si ammette che le catastrofi sono il risultato di un dissennato uso del territorio e che si potrebbe combattere la fame del mondo se solo fossimo un poco meno egoisti. Dio ci lascia liberi e il frutto del nostro comportamento è ben visibile. Dio non cessa mai di essere buone idee e le disgrazie dovrebbero piuttosto spingere l'uomo a cercarlo. Egli, per la sua infinita fedeltà, non ci scaccerà. Piuttosto, con grande amore, ci accoglierà a sé.